Sinistra Italiana prosegue il suo percorso di sviluppo. A 18 mesi dalla nascita, dopo l'esodo di alcuni rappresentanti regionali, come Gianni Melilla e Mario Mazzocca, si procede a nuove nomine. La prima è quella di Daniele Liccheri, che passa da segretario provinciale di Pescara a SEL, a coordinatore regionale. Noi abbiamo già in cantiere una serie di progetti di lavoro sul territorio, che punteranno tantissimo sul mutualismo e su una serie di tematiche che sono nostre, come reddito minimo di cittadinanza, e le vertenze ambientali, che rimangono all'ordine del giorno, quindi il parco della costa Teatina, la bonifica del sito di bus, in cui siamo già andati recentemente con la nostra responsabile azione ambiente, Palo Natalicchio, a fare un sopralluogo. Queste resteranno le priorità di Sinistra Italiana. Noi crediamo che per chi è andato via e per chi viene, Sinistra Italiana non sarà un luogo di transizione, ma sarà un luogo che vuole costruire un percorso molto più lungo. Quindi noi siamo pronti a lavorare con tutti, ma soprattutto con chi vuole fare un percorso che sia solido, per quello abbiamo costruito un partito e non un movimento. All'indomani delle primarie del PD che hanno visto vincere ancora Matteo Renzi, e in vista delle prossime elezioni, ora la riflessione va sulla frammentazione dei tanti partiti in cerca di coalizione. Secondo me il dato reale è quello che il Partito Democratico oggi è il partito di Renzi, nel senso che non ci si può girare intorno, chi vince ha ragione, quindi il PD a trazione renziana non è morto, come qualcuno pensava qualche mese fa e più forte di prima, e questo necessita un'accelerazione a sinistra per riorganizzare un quadro di alternativa. L'abbiamo detto al Congresso nazionale insieme all'elezione del nostro segretario nazionale, che è dirimente ricostruire a sinistra un percorso nuovo, come si è fatto nel resto d'Europa, d'altronde con Podemos e con tantissime altre esperienze di partecipazione dal basso, perché evidentemente il governo attuale, quello che l'ha preceduto, purtroppo vanno in un'altra direzione, che per la sinistra sicuramente è assolutamente negativo.